Il parco E consumare cibo scadente a prezzi popolari Però se ci metti Un cinemino Una multisalina Quelli credono che tu lì ci fai anche La cultura La narrazione Tutto Lei cosa ci metterebbe? Ed è per questo che può succederci Qualsiasi cosa in qualsiasi momento Ma io gli avevo chiesto solo un ombre Sì, però io le dico che questo è molto meglio Perché non la ripara solo dall'acqua Ma anche da calcinacci, detriti, guardi Buongiorno, Corrado Io sono qui fuori, eh Arrivederci Sì, guardi, ci ho pensato Posso fare i 1.7, anche se almeno quattro volte è tanto Dai i soldi Prendi l'assicurazione Voglio prendere l'assicurazione Allora questa è l'occasione della tua vita E adesso chi lo ruba sto quadro? Tu però non sei un ladro E adesso chi lo ruba Non sei un ladro 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 Grazie a tutti.